buongiorno benvenuti alla rassegna stampa di oggi lunedì 18 settembre allora la cosa singolare oggi sui giornali che sono veramente questa è una rassegna che possiamo fare in pochi istanti perché c'è nulla sui giornali di rilevante la cosa tale per quale ogni giornale titola poi a modo suo forse il Corriere della Sera è quello che è più divertente si fa per dire in termini politici perché dice come è che dice duello tra leader sostanzialmente tra Salvini che ieri era Pontida e Berlusconi che ieri era Fiugi ma è quello che mi è venuto da pensare leggendo i giornali oggi visto che ci sono anche le notizie che riguardano altri partiti che il duello tra leader c'è anche ad esempio su il Movimento 5 Stelle in cui Fico non ci sta alla investitura fatta dal Movimento 5 Stelle nei confronti di Di Maio tra l'altro c'è tutta la questione su Di Maio su cui ritornano oggi i giornali sul fatto che lui è stato in realtà indagato per la questione di una diffamazione e nello statuto si prevederebbe oggi Travaglio sfotte quelli che la pensano come me però non nello statuto si prevede che gli indagati a qualsiasi titolo non possano essere candidabili e l'altro sconto tra il leader oltre a quello del centro-destra del centro e del Movimento 5 Stelle è quello che oggi inonde i giornali nelle pagine 5, 6, 7 sulla sinistra dove prima Prodi poi Pisapia poi Bersani non ci stanno alla leadership di Renzi. La prima considerazione che mi viene da fare e poi ritorneremo sul centro-destra è tutti questi leader che si litigano tra di loro quando con il sistema elettorale che ci sarà non vincerà nessuno nessuno prenderà il 50% e soprattutto non è detto neanche che queste leadership siano quelle di partiti che prevarranno sugli altri quindi stanno litigando prima di vincere. Una cosa di questo tipo ma rivolta solo al centro-destra oggi secondo me la dice intelligentemente Vittorio Feltri su Libero e dice vogliono fare il Premier ma non hanno i voti ed è rivolto soltanto a Salvini e Berlusconi dicendo che lui ha simpatia per il centro-destra lui Feltri ma sia Salvini sia Berlusconi è difficile che ottengano anzi direi quasi impossibile che possono ottenere il 50% dei voti se gli va bene arrivano 35 40% dei voti ma insomma il 50% dice Feltri è davvero difficile. Il giornale nota maliziosamente come ieri questo forse è l'unico elemento diciamo un po' di sangue politico ma di minimo cabotaggio nel senso che riguarda proprio gli addetti alla politica più che penso il 99% delle persone che ieri alla grande kermesse fatta da Tajani di Forza Italia a Fiuggi in cui è partecipato il Cavaliere la prima uscita pubblica del Cavaliere mancasse a questa prima grande kermesse Toti il grande vincitore della Liguria di Genova perché sostanzialmente su quell'accordo si è vinto Genova Savona e la Liguria mancasse perché era a Pontida dove Salvini nel frattempo diceva che il vero leader del centro-destra era lui. Mi scuso se vi siete annoiati su questa pagina politica ma un po' di politica la dobbiamo raccontare anche noi e andiamo velocemente a questioni di altro tipo. Il Foglio oggi il lunedì è un giornale precotto ve lo consiglio perché in 3-4 pagine ma è una specie di romanzo degli errori che vi consiglio di leggere racconta il metodo Woodcock. Hermes Antonucci racconta il metodo Woodcock tra l'altro lo stesso che ha colpito me in questa casa in questo appartamento non con questo computer perché il computer che mi hanno sequestrato mai me lo hanno restituito uno dei computer che mi hanno sequestrato quindi quello che è il metodo Woodcock è spiegato perfettamente sul Foglio che riguarda appunto l'atteggiamento diciamo e la commissione tra Woodcock e la polizia giudiziaria. Repubblica apre in maniera singolare intesa governo vaticano sullo Ius Soli. Un tempo Repubblica ci aveva insegnato ad essere il giornale laico, il giornale che ci raccontava l'errore delle ingerenze della Chiesa negli affari di Stato. Oggi sembra compiaciuto del fatto che con un'intervista a Tarquinio, il direttore dell'Avvenire che sta facendo una campagna fortissima per lo Ius Soli, dovrebbe fare anche una campagna altrettanto forte per la sua umiltà, cosa che manca totalmente a Tarquinio che non fa mai mistero delle persone che conosce pur di violentare, tra virgolette, i conduttori televisivi e so perfettamente di che cosa sto parlando. Bene, insomma l'umiltà di Tarquinio è stata oggi intervistata da Repubblica ma soprattutto la cosa che vi dico, Repubblica legittimamente ha una polemica, una posizione per lo Ius Soli che è anche, vorrei dire, dal loro punto di vista comprensibile, ma mi diverte in maniera fantastica come tutti vadano bene per questa posizione financo. Il Vaticano! Il Vaticano! Che in questo caso è giusto che decida le politiche per il governo italiano e il suo appoggio per il governo italiano è un appoggio importante. Io direi che la differenza tra uno Stato fondamentalista cristiano, cattolico, ebraico, usulmano e quello che volete è che la religione si occupa degli affari suoi molto importanti che riguardano il divino e lo Stato si occupa dei suoi. E Repubblica questo ce l'ha insegnato per anni, oggi se l'è un po' dimenticato. Un'altra cosa che mi ha colpito, se volete è minore, ma secondo me è molto interessante su Repubblica di oggi, è i 5 italiani arrestati d'Amburgo. Messa così io sono scandalizzato del fatto che ci siano 5 ragazzi italiani ancora nelle carceri tedesche. Poi dopo leggo nella corrispondenza che sono in carcere per tentata, violenza e del disturbo della quiete pubblica e per i fatti che sono avvenuti a luglio-agosto durante il G20 in cui fu messa a fuoco e fiamme Hamburgo proprio per il G20 proprio per le manifestazioni dei centri sociali. E questi ragazzi italiani sono in carcere preventivo perché non sono stati ancora condannati, che è una cosa che comunque mi fa orrore un po' per tutti in tutti i casi. Poi leggo però la corrispondenza della Tornabuoni che dice che questi giudici sono cattivissimi e danno pene micidiali. Pensate un po' voi, dice Dietta Tornabuoni, sei stato condannato a due anni, mi sembra sette mesi, un ragazzo olandese perché ha lanciato due bottiglie contro i poliziotti. E allora tutto il pezzo assume un peso un po' diverso. No, se le pene sono micidiali perché in Germania non si possono aggredire i poliziotti e si va in galera per due anni se si aggredisce un poliziotto con delle bottiglie, beh allora forse devo un po' riconsiderare il mio punto di vista e cioè penso che i magistrati stiano facendo quello che dovrebbero fare anche in Italia, cioè che se si attacca un poliziotto si va in galera. E tra l'altro il motivo per il quale questi italiani sono ancora in galera è perché i magistrati tedeschi dicono che c'è pericolo di fuga. Quello che voglio semplicemente dire è che forse se i magistrati e le leggi che lo consentono punissero chi va nelle strade e si comporta in maniera allucinante contro le cose, contro gli oggetti e contro la polizia e venissero condannati e sbattuti in galera, forse le manifestazioni si farebbero ovviamente, ma avrebbero, come possiamo dire, degli esiti un po' diversi rispetto a quello a cui siamo abituati in Italia. Il problema è che la moneta cattiva scaccia la buona e cosa succederà? Chiaramente che se i magistrati tedeschi hanno questo pugno duro state certi che i no global, i centri sociali andranno laddove i magistrati avranno pugno non duro, come da noi. Prima o poi ce ne accorgeremo, non sono i poliziotti che devono menare i manifestanti, ma sono i magistrati che quando un poliziotto viene menato da magistrante prende e lo sbatte in galera. Questo avviene in uno stato di diritto, secondo me. L'ultima cosa che vi voglio ricordare, ed è una mia questione personale, sono le macchine che vedete a Milano targate Svizzera. Siccome gli svizzeri sono svizzeri e se un italiano va in Svizzera e si permette di buttare una cicca per terra e lo prendono a calci nel sedere, va bene? Siccome gli italiani quando vanno in Svizzera attenti alle regole, quando io vedo queste macchine svizzere, SUV, Ferrari, questo è il caso di oggi, Lamborghini, Mercedes, macchine straordinarie, bellissime, nei confronti ai quali non ho alcune invidia, le vorrei avere anch'io. Quando vedo queste macchine svizzere che arrivano in Italia e fanno i fenomeni, corsia preferenziali, vanno a 250 all'ora, ci fanno i fari quando stanno dietro, parcheggiano, è avvenuto ieri e c'è sui giornali nel posto degli handicappati perché se ne fottono, se ne fottono. Beh, allora in quel caso mi viene una rabbia e vorrei fare la stessa cosa che fanno i magistrati tedeschi nei confronti dei no global italiani, cioè prenderli a calci, come direbbe D'Alema, nel sedere. Ieri, lo ricordano oggi le cronache, una Ferrari Svizzera si è fermata in un posto handicappati a Via Monte Napoleone e quando un povero handicappato ha cercato di dire se ti sposti due metri così riesco a parcheggiare anch'io, quello se ne è fottuto e anzi lo ha spinto, gli ha fatto delle cose orrende. Allora, quello che dico ovviamente, 90% di queste macchine svizzere con targa svizzera, ma sono guidate da italiani che vivono in Svizzera o svizzeri che sono diventati completamente nella mentalità il peggio degli italiani, quindi io non ne faccio una questione di razza, di colore, di pelle, di uomo bianco, ma una cosa ce l'ho, io ho un razzismo nei confronti delle macchine svizzere che si comportano a Milano come se fosse res nullius, beh, io avrei una presunzione di colpevolezza, devono stare più buoni e più zitti di quanto siamo noi italiani. Ragazzi, con questo, brava François, mi dice, non era De Luca con quella Ferrari parcheggiata a Via Monte Napoleone. Ciao!